eccoci di nuovo qui ai giardini della casa valdese di torrepellice e come annunciato prima non sono sola ma sono con un ospite barbara oliveri caviglia benvenuta a barbara grazie e barbara è la presidente dell'oegge che l'ospedale evangelico internazionale di genova davvero grazie per essere qui grazie a voi e ti invitata perché volevo parlare di un argomento in particolare perché come ospedale vi occupate tantissimo di violenza contro le donne in particolare partendo col progetto frontiera rosa se vuoi parlarne un po raccontarci che cosa fate sì dunque allora finestra rosa nasce dalla dall'adesione che l'ospedale ha dato alla campagna del 2013 dell'otto per mille della chiesa valdese contro il fenomeno del femminicidio per portare avanti tutti i progetti a tutela delle donne noi da quella dal 2013 in poi abbiamo appunto presentato e abbiamo avuto appunto il finanziamento dell'otto per mille questo questo progetto che a tutela delle donne vittime di violenza che accedono al nostro ospedale o tramite il pronto soccorso o che sono ricoverate già nell'ospedale per magari altri motivi altre problematiche oppure che invece accedono agli ambulatori finestra rosa offre ascolto psicologico alle donne e quindi i principi di finestra rosa su cui appoggia finestra rosa sono appunto ascolto accompagnamento e cura delle delle donne e questo progetto ci ha permesso nel corso di questi anni di accompagnare più di 200 donne a fare il primo passo per poi essere affidate ai servizi territoriali e centri antiviolenza è un progetto che nel corso degli anni si è molto arricchito di contenuti una delle principali aspetti di finestra rosa è anche la formazione del personale noi dal 2013 continuiamo a fare formazione una formazione continua perché le nostre psicologhe di fatti ci piace dire sono psicologhe itineranti perché girano per i reparti dell'ospedale e appunto danno gli strumenti ai nostri operatori per poter riconoscere perché noi non trattiamo solo violenza fisica ma anche violenza psicologica e quindi avendo una certa formazione si può anche essere in grado di intercettare certi segnali perché per esempio faccio un esempio di una donna che abbiamo avuto che era ricoverata in ortopedia per tutta altri motivi e che grazie alla formazione del nostro personale è riuscita ad aprirsi a confidarsi e poi appunto a cominciare il cammino di salvezza che porta la donna a uscire appunto da questa tragedia. Questo è molto importante poi prima stavamo parlando un attimo e mi parlavi anche dell'importanza di questa formazione anche per saper accogliere queste donne nel modo giusto visto che molte volte purtroppo vivono questa vittimizzazione secondaria come mi dicevi prima. Assolutamente, noi abbiamo visto quanto sia importante usare le parole giuste sin dal primo approccio che si ha con la donna vittima di violenza. Infatti basta veramente sbagliare le parole, il modo di porsi che la donna invece che aprirsi si chiude e questo purtroppo determina il perderla perché poi ovviamente se la donna non ha più fiducia, se la donna non si sente capita ma anzi giudicata allora proprio subentra la famosa vittimizzazione secondaria per cui la donna si sente doppiamente vittima e quindi si perde purtroppo la possibilità di aiutarla. Esatto. Un'altra iniziativa che trovo molto importante è anche la formazione nelle scuole per i giovani, quindi fare educazione e sesso affettiva anche per prevenire la violenza. Certo, difatti oltre tutta una serie di ovviamente misure che bisogna implementare, purtroppo vediamo ogni giorno assistiamo veramente a un bollettino di guerra ormai e la cosa più importante è la prevenzione, quindi agire alla base. Quindi fin da piccoli bisogna insegnare che l'amore è una cosa, la violenza è un'altra e a educare i giovani, i bambini fin da appunto da quando sono più piccoli alla parità di genere e al rispetto dell'altro e proprio questo si propone, oltre che ovviamente dare tutta una serie di elementi, di informazioni, di educazione sanitaria di educazione alla sessualità, sulle malattie sessualmente trasmissibili, tutte queste cose si propone di portare avanti nelle scuole quindi già dalle elementari, poi ci abbiamo medie, poi ci abbiamo anche licei, siamo presenti in 15 istituti nella città di Genova dove appunto noi portiamo avanti questo progetto di educazione alla sessualità e all'affettività e questo ci dà molta soddisfazione perché è un progetto che ci permette veramente di fare un qualcosa di concreto dall'origine e in questo progetto non sono solo coinvolti i giovani ma anche gli insegnanti e i genitori in modo da fare diciamo una squadra e quindi di portare avanti il progetto nel miglior modo possibile e ci sono anche sempre degli eventi annuali con Finestra Rosa Sì, noi organizziamo nel corso dell'anno tanti incontri perché io penso che uno dei nostri ruoli possa essere quello di mettere in rete le proprie esperienze e di lavorare, è importantissimo il lavoro di rete noi siamo inseriti a pieno titolo nella rete antiviolenza metropolitana collaboriamo tantissimo con il centro di riferimento antiviolenza metropolitano e comunque vengono da noi a tenere le loro lezioni perché così sono la procura, la procura dei minori, ci aiutano ad arricchire oltre che il nostro bagaglio culturale anche il nostro approccio perché a renderlo più mirato, più consapevole e quindi noi ci siamo proprio proposti questo compito di organizzare nel corso dell'anno tanti eventi, questi appunto incontri dove si fa il punto della situazione con tutti gli attori della rete questo devo dire che è molto piaciuto, molto apprezzato ed è un appuntamento il classico appuntamento è quello che c'è, è la giornata di finestra rosa nel mese di novembre intorno al 25 novembre però poi adesso abbiamo preso la consuetudine di organizzare sempre più incontri centri antiviolenza, associazioni quindi l'ultimo incontro che abbiamo organizzato abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare anche l'associazione nata in ricordo di Martina Rossi i genitori che sono veramente un esempio di impegno civile hanno fondato questa associazione in ricordo della figlia che anni fa è morta cadendo da un balcone per sfuggire a un tentativo di stupro e quindi anche l'avere il contatto diretto con queste associazioni per me è molto importantissimo Penso sia importante parlarne veramente il più possibile di queste tematiche anche le recenti notizie lo confermano di quanto sia urgente lavorare molto su questo e ti ringrazio davvero tanto Barbara per essere venuta qui e averci raccontato questa realtà veramente bellissima per il vostro impegno Grazie a voi Grazie a voi